La Lepre ha le sembianze del Potenza nel ruolo di cacciatori, adesso ci possono stare un po' tutti nonostante il principale accreditato sia il Cerignola. Il campionato di Serie D comincia a sgranare i suoi valori aspettando che gli stessi possano essere confermati dal mercato invernale o dallo sprint di primavera. Tre momenti cruciali di una stagione che però qualche indicazione l'ha già offerta dopo sette giornate. Il Potenza, con sette vittorie su altrettante gare, è di diritto la Lepre in questo momento. Il Gravina, una delle outsider, l'Altamura, la neopromossa che ha ripreso a correre dopo tre gare e un solo punto, il Taranto, la squadra tutta da decifrare. È nutrita la pattuglia di squadre pugliesi nel Ginoleacca e in gran parte sono aggregate al gruppo delle migliori. Lo è di certo il Gravina imbattuto e tornato al successo in trasferta sul campo della Sporting Fulgor, una delle compagini pugliesi di retrovia. Il 2-1 di domenica scorsa ha regalato ai murgiani il terzo posto in classifica, proprio alle spalle del Cerignola è messo la squadra di De Leonardis nelle migliori condizioni per il Tour de Force che comincerà nel prossimo turno in casa contro il Nardò, passerà per la sfida di Gragnano e l'infrasettimanale del 1 novembre contro il Taranto per concludersi domenica 5 novembre sul campo del Manfredonia. Ciclo di media difficoltà a leggere i numeri della classifica che potrebbe chiarire le reali ambizioni della società giallo-blu. Il poker di impegni che attende la Serie D sarà chiarificatore anche per il Taranto, sempre alle prese con il tira in molla sugli assetti societari. La trasferta a Francavilla in Sini è una prova di maturità per la squadra di Cazzarò, anche perché in trasferta il Taranto non ha mai fatto punti in questa stagione e se svolta deve esserci allora diventa fondamentale proprio la tappa lucana. Una verifica sulla avvenuta guarigione, anche dopo il cambio di guida tecnica, Ginestra al posto di Panarelli dovrà superarla all'Altamura sul campo della Frattese. Il 4-0 di domenica sulla Versa ha permesso di ritrovare il feeling con la vittoria smarrita nell'ultimo mese. Vittoria che per il Nardò sta diventando un ricordo sbiadito, mentre non hanno ancora conosciuto Manfredoni e Sansevero. Le due formazioni foggiane navigano in coda alla classifica, anche se i sipontini stanno meglio dei loro cugini dauni. Il motivo va cercato nei due pareggi di fila che il Manfredoni ha conquistato, l'ultimo in casa contro il Pomigliano, mostrando segnali di crescita che invece sembrano latenti nell'alto tavoliere Sansevero. Cinque sconfitte consecutive sono più di un campanello d'allarme.